Controlli intensificati nei pressi delle scuole, nei mezzi di trasporto e nei luoghi della Movida. Queste le decisioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito presso il Palazzo della Prefettura di Arezzo per definire le misure necessarie a contenere il Covid-19. L'attività di controllo e vigilanza sarà mirata ad assicurare il divieto di assembramento, il distanziamento sociale e l'obbligo delle mascherine. I controlli dovranno essere concentrati nelle zone della Movida e in quelle aree della città dove c'è maggior affollamento. Rafforzamento anche in prossimità delle scuole, presso le fermate degli autobus, nelle fasce orarie e nei punti dove si registra una più intensa concentrazione di utenti. Ci sarà poi una circolare che verrà diramata a tutti i sindaci affinché questo tipo di vigilanza venga garantita in tutti i comuni del territorio aretino. Il prefetto fa appello al senso civico di tutta la popolazione per il rispetto delle norme anti-covid.